Sì, al termine delle indagini effettuate da questo ufficio abbiamo individuato un po' la mente l'organizzatore di questo gruppo di delinquenti che venivano da Napoli. Hanno realizzato una serie di furti non solo a Formia ma anche nei comuni limitrofi ma anche in Campania. Tanto è vero che oltre alla nostra ordinanza di custodia cautelare in carcere c'era anche un altro provvedimento di altra procura che prevedeva per analoghi reati la misura degli arresti domiciliari. È stata prevalente la nostra e quindi adesso Buro Giuseppe si trova al carcere di Latina. Sono stati incastrati alcune immagini del circuito che usano nei negozi qui del sud pontino? Giustamente i commercianti si sono premuniti con delle telecamere che riprendono le attività all'interno delle varie attività. Questa cosa a noi ci fa chiaramente gioco e ci aiuta nella nostra attività di indagine perché grazie a questi video siamo riusciti appunto poi a individuare le persone che erano chiaramente anche note alle forze dell'Urdine. Quindi tempi brevi per fermare gli altri tre componenti della banda? Sì, contiamo a breve di chiudere il cerchio. Sono persone note, già segnalate alla procura e quindi contiamo quanto prima di chiudere il cerchio.